Buongiorno a tutti, buon giovedì e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. In questo video trattiamo il tema dei prossimi aumenti in arrivo sulle pensioni nei prossimi mesi per via della rivalutazione. Ci sono dunque nuovi aumenti e verificheremo di quanto cresceranno ulteriormente gli assegni tra pochi mesi. Prima di visionare il video come sempre vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace nel video per continuare a supportarci. Nel recente DEF ovvero il documento di economia e finanza approvato dal Consiglio dei Ministri sono emersi alcuni indizi o stime sull'inflazione prevista per il 2024. Queste stime ci danno un'idea di quale potrebbe essere la percentuale di aumento delle pensioni attraverso il meccanismo di perequazione. Come avete probabilmente sentito recentemente l'inflazione sembra aver trovato un momento di stabilizzazione sebbene i prezzi siano rimasti elevati dopo i rincari degli ultimi anni. Ad ogni modo ufficialmente l'inflazione sembra essersi fermata in questo periodo e questo è sicuramente una cosa positiva. È un buon segnale considerando i precedenti rialzi. Secondo le prime stime attuali l'inflazione prevista per il 2024 si attesta al di sotto del 2% con una percentuale attuale intorno all'1,6%. Questo potrebbe essere interpretato come un segnale positivo poiché suggerisce un rallentamento dell'aumento dei prezzi rispetto agli scorsi anni. Questo ha portato a significativi incrementi negli ultimi due anni sulle pensioni come quelli del 5,4% di quest'anno e dell'8,1% nel 2023. Per quanto riguarda le prime stime sugli aumenti che potremmo aspettarci il prossimo anno se ad esempio consideriamo un'ipotetica pensione lorda di 1000 euro mensili con un aumento dell'1,6% per via della rivalutazione si tradurrebbe in un incremento di 16 euro al mese. Per una pensione di 500 euro l'incremento sempre applicando l'1,6% sarebbe di 8 euro al mese mentre per una pensione da 2000 euro al mese l'incremento sarebbe 32 euro al mese e così via. Va da sé che le pensioni superiori a 4 volte il minimo IMSS potrebbero essere soggette a modalità di rivalutazioni diverse. Un aspetto che valuteremo nel dettaglio i prossimi mesi non appena si sapranno le percentuali effettive della nuova rivalutazione.